collegamenti di storia dell'arte sul tema del rapporto uomo natura iniziamo a parlare del romanticismo con una sensibilità particolare per la natura da un lato il paesaggio è pittoresco cioè appare come un luogo sereno e accogliente come nelle opere di constable dall'altro il rapporto con la natura è esasperato ed estremo la natura sublime con la sua grandiosità e la sua forza riempie l'osservatore di entusiasmo ma anche di terrore come vediamo nelle opere di tarner nei dipinti di friedrich personaggi solitari raffigurati di spalle osservano con commozione una natura maestosa e avvolgente l'incontro con la natura è un'esperienza spirituale che spinge gli esseri umani a superare i propri limiti il secondo collegamento che possiamo fare con l'impressionismo è Claude Monet che dipinge i suoi quadri en plein air raffigurando i cambiamenti del paesaggio nelle diverse condizioni di luce, tempo e stagione ad esempio nella serie dei covoni, delle ninfee o della cattedrale di Rouen terzo collegamento lo possiamo avere con l'art nouveau con la linea avvolgente, sinuosa, elegante con i motivi ornamentali caratterizzati da una stilizzazione di forme vegetali e floreali altro collegamento importante con l'espressionista Munch con la rappresentazione dell'urlo della natura l'artista infatti racconta camminavo lungo la strada con due amici quando il sole tramontò e il cielo si tinsi all'improvviso di rosso sangue mi fermai mi appoggiai stanco morto a un recinto sul fiordo nero azzurro e sulla città c'erano sangue e lingue di fuoco i miei amici continuavano a camminare e io tremavo ancora di paura e sentivo che un grande urlo infinito pervadeva la natura citiamo Matisse, il principale esponente dei faux, dell'espressionismo francese con un'opera in particolare, La gioia di vivere dove ci sono questi personaggi che sono rilassati, che vivono in armonia con la natura la linea che modella le forme ed esalta i dettagli crea una composizione ritmica e armonica un altro collegamento può riguardare l'architettura organica dello statunitense Frank Lloyd Wright che promuove un'autentica armonia tra uomo e natura le strutture degli edifici si ispirano alle forme della natura creando continuità tra gli elementi artificiali e lo spazio naturale altro collegamento lo possiamo fare con la Land Art dove natura e spazio urbano diventano lo strumento che crea l'opera d'arte installazioni permanenti o temporanee trasformano il paesaggio i principali esponenti sono Walter de Maria e la coppia Christo e Jean-Claude